Ciao a tutti, sono Walter Portocolone, vi rubo pochi minuti in questo bellissimo contesto a Santa Maria in Doblazio, Pont Canavese, solo per raccontarvi alcune piccole informazioni relative alle prossime elezioni dell'8 e del 9 giugno 2024. Sono candidato ovviamente alla carica di consigliere comunale nella lista Pont per un paese vivo con Moreno Riva candidato a sindaco. Sono da anni che frequento il comune, le attività pontesi, le associazioni, sono molto impegnato a livello sociale e vorrei in questo frangente portare la mia esperienza per far sì che effettivamente Pont possa ritornare ad essere un paese vivo come da nostro programma. La squadra che è stata creata è una squadra molto bella, dinamica, con parte di persone aventi esperienza, parte di persone nuove e un gruppo giovani per attivare ovviamente tutto quello che è a livello di sociale e politica giovanili. Bene, a questo punto vi rubo ancora qualche minuto perché vorrei fare un piccolo riassunto di quelli che sono i quattro punti fondamentali del nostro programma. Ovviamente lo potrete leggere e consultare ma racchiudo quattro aspetti fondamentali che ritengo di importanza notevole. Parliamo di lavoro, quindi occupazione, parliamo di turismo, parliamo di territorio e parliamo di servizi. Quattro brevi informazioni su questo. Il lavoro ovviamente è un aspetto fondamentale del territorio, il paese si misura ovviamente con il valore di termometro immobiliare. In questo momento il termometro immobiliare ci dà un chiaro sintomo che il paese è in difficoltà ed è in sofferenza. Pertanto sarà nostra cura con alcune possibilità che abbiamo di cercare di riportare del lavoro nel nostro paese, nel nostro comune, sfruttando alcuni contatti che permetteranno di recuperare alcune aree. Abbiamo la possibilità di, diciamo così, di realizzare alcuni posti di lavoro grazie alla collaborazione che nascerà e che dà in essere con alcune aziende che sono interessate al nostro territorio. Turismo, sul turismo c'è molto da dire, abbiamo una location bellissima, il nostro paese ritengo sia un paese particolarmente ricco di attrattive, a volte forse lo sottovalutiamo ma posso garantire che non abbiamo nulla da invidiare a comuni o paesi limitrofi anche più grandi. Abbiamo delle caratteristiche molto molto belle, dobbiamo assolutamente valorizzarle, ampliarle e farle conoscere al mondo esterno. Pertanto avremo molta attenzione allo sviluppo turistico in accordo con tutte le associazioni, in collaborazione con tutti i commercianti e speriamo con tutti i pontesi che vorranno darci una mano e che crederanno in questo progetto. Servizi, servizi abbiamo ovviamente la necessità di riportare alcuni servizi. Il punto che ritengo fondamentale e principale è quello di riutilizzare l'area ex ospedale che per una serie di eventi è stata chiusa e qui abbiamo la possibilità di instaurare all'interno una serie di attività che abbiamo identificato sul programma come polo della salute per far sì che possa rivivere una serie di attività dedite al paese e creare un bando per riaprire comunque la struttura a livello di RSA. Territorio, territorio abbiamo grosse necessità di collaborare con i comuni limitrofi, abbiamo la grossa volontà di ripartire sia nel concentrico che nelle frazioni con una serie di interventi che riteniamo fondamentali e la grossa necessità che ritengo importante di lavorare, di collaborare con i comuni limitrofi e con l'Unione Montana che in questo momento sicuramente può dare una spinta aggiuntiva al nostro comune. Bene, non mi resta che concludere e ringraziarvi per questi minuti di attenzione. A questo punto vi posso solo dire se avete piacere di appoggiare onestà e duro lavoro potete tranquillamente votarmi, questi sono i miei impegni e le mie caratteristiche che contraddistinguono la mia persona, quindi onestà e duro lavoro fanno parte da sempre della mia vita, pertanto se avete piacere barrerete la casella PONT per un paese vivo, sindaco Moreno Riva e al sottoscritto potete dare la preferenza scrivendo portacolone sulla scheda elettorale.